Ciao a tutti da Diego di Tecnophone.it Video registrato in 4K a 60fps con iPhone X Fotocamera principale, questa che vedete è la fortezza di Sarzana Mentre quella che vedete là su in alto è la fortezza di Sarzanella Adesso andremo ad avvicinarci con lo zoom Che in questo caso arriva fino a 3x Possiamo arrivare fino a 3x con lo zoom Ritorniamo al nostro zoom iniziale E andiamo ad inquadrare un primo piano Che è esattamente il fiorellino Guardate come è rapida la messa a fuoco Facciamo un cambio di luce, ormai il sole se ne sta andando Entrambe le fotocamere sono stabilizzate In questo caso adesso io sto camminando Vedete che comunque l'immagine è davvero molto ferma Ciao da Diego